C'è anche l'area denominata Monte Cavallo a ridosso dei monti della Maddalena ed in parte ricadente nel Vallo di Diano, tra le aree individuate come idonee per la ricerca di idrocarburi sul territorio nazionale nel piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Il piano, a cui si sta lavorando da diversi mesi, con l'arrivo del Ministro Cingolani alla guida del Ministero per la Transizione Ecologica in sostituzione del Ministero dell'Ambiente, ha subito una forte accelerazione. Nei giorni scorsi il Ministero ha provveduto a trasferire alla conferenza unificata il piano in cui vengono identificate le aree in cui non sarà più possibile effettuare ricerche di idrocarburi e aree in cui tale attività potrà proseguire o comunque essere avviata. Il territorio identificato all'interno dell'area denominata Monte Cavallo, che comprende anche parte del Vallo di Diano, ossia i territori a ridosso dei Monti della Maddalena, come Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Monte Sano, è stato inserito tra le aree idonee alle attività estrattive. Una decisione a cui da subito si sono posti i comuni interessati, proponendo le osservazioni alla decisione e chiedendo che l'area di Monte Cavallo non solo venga eliminata dall'elenco delle aree idonee, ma anche venga definitivamente individuata come area non idonea alle attività estrattive di idrocarburi fossili. Francesco Cavallone, sia in veste di sindaco di Sala Consilina che come presidente della comunità montana Vallo di Diano, insieme a Luigi Vertuccio e Giuseppe Rinaldi, sindaci di Atena Lucana e Montesano sulla Marcellana, e il comune di Padula, all'epoca guidato da Paolo Imparato, hanno subito provveduto ad inviare al ministero interessato le osservazioni finalizzate a spiegare le ragioni che rendono inattuabile l'ipotesi di ricerca idrocarburi, in particolare nel Vallo di Diano. Tra le varie argomentazioni evidenziate dal presidente dell'ente montano e dai sindaci, in primis il valore naturalistico e ambientale del territorio che va ad aggiungersi all'individuazione del Vallo di Diano come area pilota per la strategia delle aree interne. L'ambiente e la natura valdianese che lo rendono area edonia per la nidificazione della cicogna bianca e per la tutela della lontra, come anche le diverse riserve naturali esistenti, la presenza di diversi siti riconosciuti patrimonio unesco, il percorso del fiume Tanagro le cui acque affluiscono all'oasi di Persano che garantisce l'irrigazione per l'intera piana del Sele, il sistema idrogeologico dei monti della Maddalena, sono solo una parte degli elementi che costituiscono le osservazioni in gran parte similari, inviate e pubblicate sul sito dedicato alle valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e rientranti nella documentazione che è stata fornita la conferenza unificata per la valutazione del piano in attesa della definitiva approvazione che lo renderà esecutivo.